Mi chiamo Susanna Zori, vengo dalla Germania ma sono sarda, proprio sarda doc. Sono venuta qui, ho trovato il nome del dottor Palmas tramite internet, dopodiché ho mandato una richiesta per poter parlare con la clinica, mi hanno risposto subito. Allora io ho perso i miei denti quando ero incinta, dei bambini mi hanno preso tutto il calcio che avevo io e ho perso i denti quelli laterali di qua. Un saluto da dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia. Quello che ti mostro oggi è il caso di Susanna, una paziente che è arrivato al nostro istituto a più di 4.000 pazienti che sono stati traumatizzati da dentisti che hanno messo male gli impianti, curato male i denti e quello che è arrivato al nostro policlinico col caso di Susanna era un caso di una paziente giovane che aveva comunque meno di 60 anni, quindi per noi una paziente giovane che ha perduto i denti nelle zone posteriori e questo creava un inestetismo non indifferente. Il risultato è quello che vedi a schermo, un risultato iper realistico con posizionamento e rivestimento di faccette un lei e corone in zirconio su impianti dentali nella parte inferiore. A schermo vedi adesso invece la radiografia prima di mettere gli impianti dentali e la radiografia dopo che abbiamo proceduto a mettere gli impianti dentali. La paziente ha ottenuto un restyling completo della dentatura con posizionamento di un'arcata completa su impianti dentali e rivestimento di tutti i denti nella parte inferiore. Io ti faccio un saluto e ti lascio alla videotestimonianza. Allora oggi è l'ultimo giorno, ho finito il mio secondo step, sono molto emozionata perché non mi aspettavo questo risultato, me lo aspettavo bello ma ho avuto molto di più di quello che mi immaginavo sono talmente emozionata che non riesco a parlare, ho un nodo alla gola, però sono felicissima di avere i miei definitivi, ringrazio tutti, tutti dal primo all'ultimo persone molto brave, straordinarie e spero che tutti quanti si trovano bene come mi sono trovata io.